Ci rientriamo in onda, siamo agli ultimi scampoli di questa diretta ma abbiamo parlato di tante cose nel senso che abbiamo ragionato di tanti temi, c'è sempre un tema forte da raccontare ad ogni elezione ovvero i nuovi elettori che in questo caso non sono soltanto i diciottenni nel senso che poiché le ultime europee sono state nel 2019 la fascia è un po' più ampia si è parlato in parte di giovani che vanno a votare rispetto al sentimento ecologista e al sentimento ecoclimatico magari non è esclusivamente così ma proviamo a ragionarne con chi fa parte proprio di Fridays for Future e che anche insomma ragiona di questi temi, si fa molto sentire. Giorgio Brizio, ciao, benvenuto intanto in questa diretta. Buongiorno, grazie. Allora grazie a te anche perché per chiudere questa puntata ti chiediamo una cosa forse impossibile tu come ti è sembrato questo voto dal punto di vista dei più giovani? Lo si riesce a riassumere in qualche modo o è complicato come per tutte le fasce d'età ed è impossibile trovare un filo conduttore? Penso che la premessa fondamentale sia legata al fatto che comunque anche tra i giovani c'è stato un astensionismo notevole io ho passato trentina di giorni in giro per l'Italia dal 7 maggio al 7 giugno soprattutto tra i giovani ad alzare il più possibile l'attenzione verso il voto e ho visto che anche nel segmento di giovani più attivi c'era la sua fazione per non dire poi in questo secondo livello tra i giovani che invece sono meno coinvolti e perché si sentono meno coinvolti e pensano che la politica non sia più tanto in grado di poter cambiare la loro situazione spesso i giovani non si occupano di politica secondo me perché non si interessano di politica perché la politica non si interessa di giovani e quindi ci sono delle cose secondo me positive sui voti dei giovani, sui voti fuori sedi che adesso diciamo, però penso che la premessa necessaria sia da fare legata a questo dato l'astensione per la prima volta da un po' di anni sotto il 50% che secondo me ci deve comunque preoccupare ci ho detto, i giovani hanno votato come primi tre partiti rispettivamente il Partito Democratico Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra Alleanza Verdi Sinistra, così parliamo di dati più che di opinioni è un po' secondo me la sorpresa di queste elezioni europee perché comunque si avvicina al 7% quando era data avvicina allo solito sbarramento del 4% è la terza forza politica a Torino, a Bologna, a Milano, a Roma ed è la quarta a Bari, a Napoli e in una città che ho citato prima si è avvicinata all'11 o al 12% e tra i studenti fuori sede il 40% hanno votato all'alanzia di sinistra il 25% ha votato il Partito Democratico, il 10% ha votato azione nel Movimento 5 Stelle l'hanno votato il 7% di studenti fuori sede che si sono recati alle urne con questo sistema secondo me piuttosto macchinoso che ha creato anche per esempio a Bologna o nei capoluoghi in cui gli studenti dovevano andare a votare a volte da tutta la regione gigantesca e fila e in conclusione se prendiamo sempre questo dato gli studenti fuori sede Fratelli d'Italia ha preso il 3,37 Forza Italia 2,33 e Lega 0,53 cioè Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega assieme superano di poco la sede del sbarramento insomma una specie di mondo ideale Sì, guarda, adesso che è finita la par condizio ce lo possiamo dire Guarda, abbiamo giusto pochissimi istanti prima di chiudere di salutarci stiamo già arrivando alle 11 stiamo già rubando un po' di tempo al notiziero quindi ti lascio chiudere a te Giorgio con una domanda che spero non ti metta enormemente in difficoltà tra chi non ha votato tra i più giovani che non hanno votato tu hai percepito più paura o più indifferenza? cioè è più una... insomma forse è stata sentita come una responsabilità o come una difficoltà effettiva a esprimersi in un senso o nell'altro o proprio semplicemente che è un tema che appunto non li ha visti coinvolti e quindi non... appunto un po' di indifferenza di ritorno Beh, penso proprio un po' più di indifferenza più che di indifferenza di appunto sentimento legato al fatto che appunto non solo alcune cose riescono a cambiare in meglio ma se è possibile cambiano in peggio perché proprio ci sia anche una spaccatura l'ho vista da Grigento l'ho vista Pozzallo l'ho vista Messina l'ho vista Salerno l'ho vista Crotone in Crotone per esempio non avrei pensato di concludere con Crotone però Crotone è la provincia più raggiungibile d'Italia la provincia con un rezzo medio più basso d'Italia la seconda col più basso in Europa la provincia col sottosuolo più inquieto d'Italia nonostante sia la provincia con meno infrastrutture d'Italia e a Crotone vedi proprio che c'è una divisione tra coloro i giovani che comunque sperano e ambiscono a quella cosa cioè di andare a studiare al nord fondamentalmente e abbandonare il prima possibile non tanto perché non siano affezionati ma perché non ci sono delle possibilità la provincia e chi fondamentalmente si rassegna a stare lì e vive in modo triste questa cosa e quando l'Unione Europea riuscirà ad arrivare ai giovani di Crotone che non sono solo i giovani Erasmus certo io ho fatto l'Erasmus certo l'ho fatto anche fuori dall'Unione Europea a Istanbul Erasmus quindi come dire l'Unione Europea per me è qualcosa di un certo tipo ma quando arriverà ai giovani di Crotone forse l'Unione Europea avrà avuto un ruolo e sarà stata incisiva quindi insomma non è tanto il giovane di Crotone che non va, non si interessa all'Unione Europea e più che altro l'Unione Europea che non si interessa al giovane di Crotone questo sembra essere un po' il punto allora ci sarebbero tante cose da dire scusaci Enrico se ti abbiamo messo un po' come voce di sottofondo non riusciamo più a farti ribattere magari avresti avuto qualcosa di importante da dire stiamo già un po' sforando sì sì stiamo sforando ma nel ricordare e nel ringraziare Enrico Panero e Giorgio Brizzo voglio ricordare che Giorgio Brizzo ha curato per Bollati Boringhieri per molti anni da domani 27 attivisti europei scrivono di clima, pace e diritti che a poche ore dal voto diciamo questo libro diventa ancora più prezioso adesso quindi Giorgio ancora grazie diciamo per aver accettato il nostro invito anche per aver raccolto questi contributi in Europa grazie ancora grazie Giorgio grazie a tutti quanti che ci hanno dato una mano per questa lunga diretta